E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono KakolaKid ed oggi siamo qua in un nuovo video In un nuovo video di un videogioco E oggi ragazzi giocaremo a Presto Disegna Che si chiama Quick Draw Lo potete praticamente giocare, è gratuito Cercate su Google Quick Draw E cliccate il primo link in viola E vi uscirà il gioco E oggi noi ci andiamo a giocare Però prima di giocare mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun mio video E ovviamente lasciate un bel pollicione all'insù Ok, disegniamo Nave da crociera, in meno di 20 secondi, ok Nave da crociera Vedo asparago Oppure fagiolino Oppure graffetta Oppure sacco a pelo Vedo infradito Oppure hotdog Sono confusa Vedo telecomando Uffa, non riesco a indovinare Disegna zigzag Lo so, è zigzag Come posso mutare sto tizio? Montagne russe Lo so, è montagne russe Bravo Passaporto Tipo una tagghetta Vedo ventitricio Oppure tastiera Oppure cuscino Oppure mappa Vedo forno a microonde Oppure bussola Oppure fasciatura Vedo ambulanza Porto Oppure sveglia Oppure ospedale Passaporto Uffa, non riesco a indovinare Squalo Ok Vedo montagna Oppure copricapo Oppure ghiacciolo Oppure sedia Vedo idrante Come? Oppure lanterna Oppure ventilatore Oppure aereo Vedo incudine Oppure anatra Uffa, non riesco a indovinare Ma questo è un cretino Pane Vedo stagno Oppure patata Oppure bistecca Lo so, è pane Oh, bravo cretino Allora, questa è una nave da crociera C'ha la forma Questa è zigzag Questa è montagna russe Questo è il passaporto C'è la targhetta con la forma dell'aero Questo è lo squalo Questo è un cretino Violincello Vedo patata Oppure arachide Vedo arachide Vedo pero Oppure violino Violincello Non ho idea di che cosa stai disegnando Uffa Non riesco a indovinare Infradito Sono confusa Vedo patata Sei un maschio Lo so, è infradito Oh, sei un maschio Sono gufo Vedo luna Oppure pero Oppure secchio Vedo circonferenza Oppure pupazzo di neve Vedo cipolla Oppure lanterna Oppure procione Oppure panda Vedo orso Lo so, è gufo Oh, bravo Candela Oh, guarda che bella candela Giardino Oddio Vedo triangolo Oppure tastiera Oppure piscina Oppure pianoforte Vedo recinto Non ho idea di che cosa stai disegnando Lo so, è giardino Oh, all'ultimo Chiocciola Vedo cucchiaio Oppure tubo da giardinaggio Lo so, è chiocciola Ok Gioca di nuovo Allora Rinoceronte Vedo luna Oppure nuvola Oppure mela Oppure tartaruga di mare Lo so, è rinoceronte Guarda che bello rinoceronte Coccodrillo Vedo arcobaleno Oppure stagno Oppure topo Oppure macchina Vedo macchina della polizia Macchina Lo so, è coccodrillo Aereo Vedo arachide Oppure patata Oppure pane Oppure hotdog Oppure infradito Come? Vedo fasciatura Sono confusa Ma vaffanculo Non riesco a indovinare Spazzone da denti Lo so, è spazzolino da denti Ho fatto, ho fatto così Vedo asparago Oppure lampione Tu sei un asparago Lo so, è fiore Vedo circonferenza Oppure uva Oppure binocolo Cos'era matita? Vedo mazza da baseball Sono confusa Come? Lo so, è matita Oh Ok Beh, 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 beh Beh Ci facciamo Un'ultimissima partita Fungo Vedo triangolo Oppure pero Lo so, è fungo Ok, passaporto Passaporto Com'è il passaporto? Vedo panchina Oppure tastiera Oppure piscina Oppure cartolina postale Vedo trampolino Vedo libro Vedo borsa frigorifera Vedo borsa frigorifera Non riesco a indovinare Tenda Non ho idea di che cosa stai disegnando Vedo copricapo Oppure arcobaleno Oppure ponte Oppure casco Lo so, è tenda Banana Lo so, è banana Ah, fammi fare il picciolo Libvo Vedo fiume Oppure trampolino Oppure boomerang Oppure forno Che cazzo Vedo foglio di calcolo Oppure sandwich Oppure scala Vedo nave da crociera Vedo nave da crociera Ora la nave da crociera No, prima Non riesco a indovinare Cuscino Vedo bastone da golf Oppure mazza da baseball Lo so, è cuscino Sì, sì Bene ragazzi Direi che ci possiamo fermare qui Sto deficiente Maschio Che si sente femmina Lasciamolo stare Lo lasciamo in giro Mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie.